Partiti! Partiti! Di Anser che inizia a cercare l'attacco, poi ancora Lichis a medio di breme, De Folk e Mastrogeppetto al largo di tutti, Green Fox in fuga, da magia che ci prova, Jolie Cadot e Di Anser a ridosso, questi in Lizza davanti a Dot Kiss, ci prova a spostare Jolie Cadot per vedere la luce su Green Fox, magia per via interna, Di Anser che ha perso qualcosa, Jolie Cadot che scatta all'attacco dei suoi rivali, Jolie Cadot che viene a concludere, strettissima per il secondo tra Green Fox e magia, poi Di Anser, Lichis e tutto il resto del gruppo, Jolie Cadot facendo lo slalomio a Rossi che colpisce per il signor Beltrani ai colori, il signor Verricelli al training.